Si sono aperte ieri le prenotazioni per il vaccino nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabicce. Si allargano così i luoghi della campagna vaccinale, con la prenotazione che in questo modo non è più mediata soltanto dal portale delle poste. La somministrazione partirà dal 16 giugno in poi, non appena arriveranno le dosi di vaccino in farmacia e ad effettuarli sarà il farmacista di turno. Il cittadino dovrà presentarsi con la richiesta di prenotazione e la tessera sanitaria in mano. Numerose le domande arrivate ieri nelle farmacie comunali già accreditate, Andrea Costa, Soria, Cattabrighe, Villa Fastigi e Pantano, poi la sesta a Gabicce, a cui si aggiungono altre 21 farmacie private in tutta la provincia. Tra queste a Pesaro c'è la San Salvatore in Largo Aldomoro, Madonna di Loreto in via Ogolini, Antonioli in via Branca, Rossini in via Recanati, Albini in via San Francesco, più una sesta Candelara. Noi siamo partiti con l'adesione di 5 farmacie su Pesaro e una su Gabicce, cercheremo di gestire al meglio il numero delle prenotazioni per multipli di 6, perché le dosi dei fialetti dei vaccini sono 6 ogni boccetta e quindi cercheremo proprio dalla prossima settimana, mercoledì prossimo, di avere il numero giusto di vaccinati ogni farmacia rispetto a quello che è possibile fare. Considerate che questa è una, tra virgolette, una prova generale perché l'obiettivo della sanità nazionale sarà quella da settembre in avanti di andare alla chiusura degli vaccinali perché da una situazione di emergenza si sta passando ad una situazione di gestione della pandemia. Si deve presentare in farmacia con la tessera sanitaria, numero telefonico in maniera che noi prendiamo la prenotazione e poi se ci fosse qualche inconveniente così lo possiamo ricontattare, ma dovrebbe andare tutto liscio. Già da ieri mattina sono venute diverse persone, siamo stati molto contenti dell'affluenza, è una cosa molto semplice, possono venire a qualsiasi ora qua in farmacia per poi prenotarsi e vedere la disponibilità.